Questo programma è offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita, come malumore, irritabilità, dolore alla schiena, mal di testa, dolori cervicali o agli arti. Per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere, non esitare. Chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Grazie per la visione! 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 Buonasera da Nicola Vacca per questa ennesima puntata di Rugito Nero Verde. Grazie per la visione! 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 e questa è la prima richiesta che faremo, poi sicuramente una volta entrati emotivamente in quello che è il nostro sogno sono convinto che ci daranno una grossa mano fisicamente mister come lo hai trovato visto che si è discusso anche sulle sue condizioni fisiche il ragazzo stava già giocando anche se spezzoni però non penso che alla sicurezza non si facciano giocare un calciatore che non stia in condizioni ottimali quindi il ragazzo sta bene viene da un infortunio che ha avuto un anno fa quindi ha smaltito ampiamente è un ragazzo che ha grande voglia ho visto che ha entusiasmo e voglia quindi ripeto sono convinto che ci possa dare una grande mano anche perché questo è un gruppo che anche nell'accogliere i nuovi si dimostra sempre grande e molto maturo quindi sono convinto che si inserirà molto bene anche perché ho scoperto ieri dialogando proprio con Mauro che addirittura si è conosciuto in viaggio di nozze con Ciro Amelio quindi non sui campi chi non conosce Ciro Amelio c'è la possibilità del calcio è un bellissimo retroscene perché non ci si è conosciuti sui campi di calcio ma in viaggio di nozze e poi ci si è ritrovati qui speriamo con altri fiori di festeggiare alla fine dell'anno allora io le mie domande al mister le ho fatte qui mi taccio per l'anzianità io direi diciamo di iniziare dal professore no a parte che da casa sono arrivate tante domande come al solito ma stasera ancora di più dove allora la prima è quella che dicono che anche con 24 ore di ritardo ma fanno gli auguri a te mister grazie ecco è questo importante soprattutto ci salutano da Sarajevo stasera addirittura ci guardano da Sarajevo ci guardano in giro e c'è qualcuno che ha chiesto da casa mister qualche tempo fa qualcuno ti ha chiesto se avevi in mano una Ferrari tu hai detto di no adesso la Ferrari si sta iniziando a intravedere o sei ancora convinto di avere un'utilitaria da trasformare speriamo di no la Ferrari visto gli ultimi campionati no ma io rispondevo a questo premesso che da sempre ci siamo detti molto contenti della rosa che avevamo attrezzato da sempre abbiamo creduto in questo gruppo nei valori umani e nei valori tecnici è normale che quando sento parlare di corazzata mi sembra un termine non appropriato la nostra è una buonissima squadra ma non una corazzata o perlomeno la corazzata è quella squadra che sia a livello numerico se a livello tecnico ha quel qualcosa in più secondo me noi all'interno di questo campionato oggi i riscontri del campo i risultati dicono che fino adesso abbiamo avuto qualcosa in più degli altri ma non perché avevamo la rosa secondo me più ampia e più attrezzata sicuramente perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale ma dicendo questo non volevo come dire mettere le mani avanti e sminuire il gruppo penso che ci siano state delle squadre che a inizio anno ogni società ha un budget è vero che il budget non sempre si riscontra poi sul campo su quello che è il risponso del campo però ai nastri di partenza denota una sorta di griglia è così fondamentalmente secondo me ai nastri di partenza di questo campionato davanti ai nastri di partenza non c'era il bitonto che era subito dopo come l'avevamo detto dall'inizio sapevamo di aver fatto una buona squadra c'erano quelle 3-4 squadre che secondo noi e per il budget che avevano messo a disposizione avevano speso un po' più di noi avevano allestito le rose un po' più corpose della nostra ciò non toglie che non abbiamo detto da subito che volevamo fare un grande campionato quindi non era un modo per buttare le mani avanti ripeto ma era semplicemente per mettere i puntini su lei Vincenzo Misterio due domande la prima lei parlava giustamente di quelle che erano le premesse all'inizio della stagione poi il campo almeno fino a questo momento ha detto altro allora le chiedo quali sono state le tre partite fondamentali di questo primo scorcio di stagione cioè le partite che dal punto di vista della consapevolezza vi hanno dato di più sono state più importanti durante questo percorso la seconda domanda riguarda proprio il nuovo acquisto Mauro Bollino parentesi personale l'ho seguito ai tempi della sua militanza nella Fidelisandria era un giocatore validissimo soprattutto per la categoria Bollino va a rinforzare un attacco che ha già due bocche di fuoco non indifferenti come Patierno e Lattanzio senza dimenticare poi Montaldi e Mercai ci sarà la possibilità in alcune partite di poter vedere Lattanzio, Patierno e Bollino tutti e tre insieme e se sì a partita in corso o dall'inizio? allora la prima domanda diciamo tipo Di Bala, Ronaldo e Guain si vede la sfumatura gioventina si vede come diceva il filosofo c'è chi può e chi non può eh lo so noi ci accontentiamo di Brahim allora rispondiamo alla prima domanda non so individuare tre partite ma una sicuramente sì una partita che in qualche modo secondo me nella testa della squadra ha fatto scattare un po' una molla, una consapevolezza è stata Cerignola una gara dove abbiamo fatto 0-0 abbiamo pareggiato secondo me in quella gara abbiamo avuto un eccesso di rispetto verso il Cerignola probabilmente nella testa dei ragazzi forse la consideravano uno squadrone comunque quello che è una grossa squadra con grandissima qualità per questo campionato quel pareggio è come se i ragazzi avesse lasciato da un lato la mano in bocca di non averci provato fino in fondo perché abbiamo gestito molto bene la partita però secondo me con un po' di coraggio quella partita si poteva provare a vincere dall'altro però hanno iniziato a avere consapevolezza delle proprie forze quindi da quella partita ho visto una squadra molto più sicura molto più convinta delle proprie possibilità e questo poi ci ha dato una spinta nei successivi scontri diretti dove siamo scesi in campo con grande ardore e con la consapevolezza che potessimo giocare contro chiunque e provare a vincere contro chiunque quindi penso che Cerignola sia stato un po' uno spartiacco a livello mentale per quanto riguarda a Bollino sì l'acquisto di Bollino rientra per quello che dicevo prima nella possibilità di un giocatore che possa darci più soluzioni perché Bollino può fare l'attaccante ma può essere anche un giocatore di raccordo tra attacco e centrocampo può essere un centrocampista molto offensivo per come lo intendo io quindi un giocatore che ci da ci ampia le scelte ci ampia le scelte nell'affrontare le prossime partite e sapendo che le difficoltà saranno tante sapendo che in casa potremo andare incontro a qualche partita in cui troveremo squadre che si chiuderanno tanto e quindi potremmo avere bisogno per scardinare anche di giocatori che oltre alla manovra oltre all'idea oltre ai concetti di gioco che proviamo a sviluppare ci metta ogni tanto anche qualche giocata individuale perché poi nel calcio la giocata individuale non va mai non va mai trascurata le grosse squadre hanno fanno della non solo del gioco la loro qualità ma anche delle giocate individuali ecco Bollino è un giocatore di questi tenendo presente che gli altri attaccanti che avevamo sono proprio attaccanti cioè Lattanzio Mercai Patierno e Hannibal sono più attaccanti e ci mancava un po' un giocatore che possa fare sia all'esterno sia al trequarti è un giocatore che può ricoprire il ruolo sia da attaccante sia da centrocampista offensivo in alcune partite dove io lo riterrò utile ecco diciamo così Allora mister da casa stanno anche facendo i complimenti per i calzini che ha stasera addosso mi fa piacere sono stati fatti da una donna non posso dire chi è però c'è la privacy c'è la privacy sì esatto no è la compagna di Mario in pratica ecco questa è la privacy buon gustai buon gustai vabbè come fa come fa giustamente con Mario accanto no ma scusate come fate senza non togliere i calzini del mister ma qualsiasi persona diciamo che respiri forse voi dimenticate forse se mi fate spiegare forse voi dimenticate forse voi dimenticate che andando in diretta su Facebook c'è la chat attiva per cui si vede benissimo chi è e poi un'altra cosa chiedono da casa mister può sfatare la leggenda che non dorme la notte no no ci sono col microfono ci sono segnali alle spalle della regia del prof Paolo Rizzo compagno di viaggio di stanza del mister che fra un po' si buta per terra per cui probabilmente diciamo che almeno una notte a settimana dorme un paio no diciamo che la notte solitamente ho un bioritmo un po' sfasato diciamo così ecco la notte spesso rimango sveglio un po' durante la settimana perché è il momento in cui riesco a vedere con più tranquillità le partite me lo porto dietro dagli altri anni quando ero in casa con i miei figli e quindi finché non andavano a letto non potevo dedicarmi diciamo allo studio delle gare e quindi da lì ho preso questo trend notturno che poi uno pensa va bene finire la partita la domenica se vinci puoi dormire invece no la domenica purtroppo mi riporto dietro un po' di adrenalina di carica della gara e quindi neanche la domenica dormo qualunque sia risultato adesso per la premia non posso dire cosa ha detto la la moglie del mister non si può dire no no non ha commentato ma ne abbiamo parlato qualche sera è abituato a questo mio ritmo quindi va bene Mario poi tra l'altro ultimamente ti arrivano anche di domenica sera le partite tu già le scarichi te le vedi una battuta da Mario Romane la sintetizzata prima perché il mister non dorme la notte perché la notte porta consiglio effettivamente è un saggio è un saggio ma va bene Mario Sicolo Mario Sicolo direttore dal bitone innanzitutto volevo fare una riflessione che la squadra non solo ha come si usa dire oggi mentalizzato ma possiamo dire anche mandato a memoria gli schemi no lo schema tattico ma non è quello l'importante la squadra pian piano ha preso ha desunto dal suo condottiero se così possiamo dire anche lo spirito pian piano e ha finito per diventare un gruppo coeso compatto affratellato quasi da un afflato che noi potremmo anche dire vincente ma non è soltanto quello quasi pieno ecco si diceva prima di ardore impavido nell'affrontare il cimento calcistico quotidiano domenicale ma al di là di questo io riflettevo su questo aspetto lei è arrivato e si vede che ancora in parte c'è ancora l'eco del suo calpestarela erba nel rapporto con con gli uomini vestiti di lutto che vengono la domenica che ogni tanto e diciamo in parte se lo meritano ma andiamo avanti allora io siccome questa sera abbiamo l'opportunità volevo fare questa volevo fare questa riflessione e chiederle innanzitutto visto che dobbiamo delineare abbiamo l'opportunità di delineare di parlare anche di alto della figura di mister Roberto Taurino innanzitutto quando lei giocava e sappiamo le sue caratteristiche da calciatore che in parte sono ancora oggi presenti in quello spirito della squadra chi è stato innanzitutto il giocatore più forte col quale ha giocato l'allenatore che più ha contribuito alla sua crescita è quello che più ha ammirato potremmo avere delle ipotesi ma soprattutto perché vorremmo sapere lei ha ammirato questo allenatore e soprattutto se si vedeva in un futuro mister quando le giocava qualcuno ci ha detto di sì si vedeva già che in campo guidava i compagni prego mister puoi mettere le cuffie c'è 40 secondi di tempo allora scelga la una la due la tre allora per quanto riguarda per quanto riguarda partiamo dalla fine eh sì io già negli ultimi anni di carriera diciamo nella mia testa avevo quest'idea del fare l'allenatore proprio perché sono un animale da campo diciamo mi piace stare sul campo mi piace stare con i ragazzi mi piace non solo dirigere ma provare a dare emotivamente qualcosa al gruppo quindi per fare questo la figura che più si rapporta con i calciatori in questo era l'allenatore ovviamente detto questo l'allenatore che allenatori hanno avuti diversi diciamo che uno è diventato piuttosto famoso non so mi sa che l'avevate già scritto in un altro momento ho avuto la fortuna di essere allenato da Max Allegri a Grosseto in Lega Pro e devo dire che mia moglie mi è testimone da subito da subito e gli dissi che secondo me era un allenatore che aveva quel quid in più aveva proprio una facilità di lettura di calcio lo vedevi anche quando parlavo di calcio poi devo dire che avevo anche un grandissimo rapporto sono andato anche a trovarlo qualche anno fa a Torino avevo un gran rapporto con il suo secondo con il preparatore quindi era un allenatore che si vedeva aveva io dico quell'intelligenza fluida del calcio che ti permette di leggere tutte le situazioni al di là non è legato non è uno legato molto l'avete notato chi segue il calcio l'ha notato non è uno legato molto allo schema o al modulo e questo per qualcuno è sintomo di intelligenza per qualcun altro secondo qualcun altro meno però è il suo modo di affrontare calcio però devo dire che ho appreso molto anche da altri allenatori anche da allenatori in categorie inferiori perché io ho fatto una carriera partendo dall'eccellenza praticamente quindi ho fatto un po' la gavetta per arrivare in Lega Pro e mi sono rimaste anche delle indicazioni anche da allenatori di categorie inferiori quindi si prova ad apprendere da tutti con grande umiltà e poi si cerca di come dire alla fine di mettere assieme una serie di idee che si fanno durante questi vent'anni di carriera e si prova ad avere un'idea fissa di quello che deve essere il tuo modo di allenare la tua proposta il tuo modo di trasferire idee perché poi essere allenatore racchiude tante sfaccettature il lavoro sul campo è solo uno degli aspetti poi c'è tanto altro dietro c'è un rapporto con la società c'è un rapporto con i calciatori c'è un c'è un trasmettere c'è un caricare momenti c'è un leggere i momenti quindi è un ruolo bello io adoro devo dire che questi anni di allenatore quasi mi rendono più felice di quando facevo il calcio il calciatore è un ruolo che mi piace talmente tanto che lo faccio veramente con grande passione per finire ritorniamo la prima domanda la prima domanda no riguardo le mie caratteristiche da calciatore io ero un calciatore nasco da vent'anni fa quando si faceva calcio ai difensori si insegnava molto a difendere e poco a costruire quindi io sono uscito da otto anni in settore Giovanni del Lecce che ero soprattutto un grande marcatore molto rapido molto bravo nei primi passi tignoso rognoso devo dire che col tempo diventando grande grazie anche ad alcuni allenatori che mi hanno fatto lavorare nello specifico ho acquisito la capacità anche di lettura del gioco e sono iniziato a diventare un difensore più moderno c'è un giocatore che sapeva costruire la manovra che avevo che era anche un po' da guida questo devo dire ce l'ho sempre avuto un po' perché anche quando ho fatto le giovanili molto spesso ho fatto il capitano e penso che se gli allenatori già da ragazzo ti danno una fascia da capitano è perché in qualche modo si ha l'attitudine a essere comunicativi si ha l'attitudine a trasferire e quindi questa cosa ce l'ho sempre avuto mettere al centro dei miei pensieri anche il compagno di squadra per me era fondamentale quindi questa me la sono portata dietro e probabilmente questa è una delle mie caratteristiche che ho maturato nel tempo e che oggi mi aiutano tanto nel fare anche il calciatore Mario Romano hai una domanda per il mister nel frattempo stanno andando delle immagini stanno scorrendo la famosa camicia bianca la famosa camicia bianca il repertorio qui era già un po' più coperto perché pioveva sorrento ecco qui inizia il freddo smanicato comunque abbiamo visto alcune immagini dove ti stavi disperando e il mani in testa qualcuno da casa ha scritto mister adesso basta la camicia bianca perché fa freddo qui era andato di rosso direttamente vai Mario sono ormai cinque mesi che è abitonto quindi la conoscenza la conoscenza la conoscenza reciproca insomma abbastanza abbastanza in avanti insomma ho voluto ho voluto insomma prendere in considerazione tre caratteristiche ho potuto insomma studiare l'uomo taurino insomma in questi cinque mesi ovvero umiltà modestia e passione secondo lei queste tre caratteristiche sono sono insite alla sua la sua persona e le e se sono le può mettere in ordine gentilmente no non me l'aspettavo attenzione sinceramente l'umiltà è una cosa che sento molto mia e e di questo devo ringraziare soprattutto i miei genitori al quale sarò sempre grato perché io la persona che sono oggi lo devo a due persone straordinarie mio padre purtroppo non c'è più ancora riesco a godermi mia madre e spero che sia bene a lungo e sono due persone che mi hanno trasmesso veramente dei valori forti siamo una famiglia siamo una famiglia numerosa e ho due fratelli più grandi siamo cresciuti siamo cresciuti in monoreddito però pur navigando nell'oro non c'è mai mancato nulla e soprattutto ho un ricordo della mia infanzia felicissima non ho mai avuto questo nonostante oggi col tempo mi rendo conto che i miei hanno dovuto fare tante battaglie per far quadrare i conti perché oggi sono genitore e so cosa vuol dire devo dire che ci hanno trasmesso sempre un senso di felicità anche nelle piccole cose che mi sono portato dietro e quindi io per la serie vivo bene con poco vivo bene con poco di materiale però ho bisogno di vivere emozioni forti questo sì perché i miei genitori mi hanno trasmesso questo per noi io mi ricordo ogni domenica era una gita ogni volta che c'era la possibilità ci portavano in giro poi magari si poteva spendere poco ripeto però ci riempivano le giornate con tanto altro e quindi questa è una cosa che oggi che faccio il genitore lo apprezzo molto di più finché sia ragazzo non si dà giusto peso a determinate situazioni invece oggi da genitore mi rendo conto che la cosa più importante da trasferire i figli innanzitutto è poterli dedicare tanto tempo e per me quest'anno è un anno un po' di sacrificio perché per dedicarmi molto a questo lavoro ho preferito non fare su Giù ma fermarmi qui e quindi sto tralasciando un po' il rapporto con i miei figli questo un po' mi pesa sinceramente però spero che sia funzionale un domani a come dire a rendere la loro vita magari un po' più semplice a potergli offrire più opportunità quindi l'umiltà sicuramente e poi c'era modesti e passione modestia rispetto e passione modesti no la modestia in modestia penso che sia qualcosa che debba appartenere un po' a tutti al di là dei risultati che uno ottiene nella vita penso che uno può essere un grande imprenditore o può essere un semplice commerciante o un operaio nella vita chiunque può lasciare un segno nella propria vita al di là di quello che fa al di là di quello che è al di là anche degli episodi fortunati che la vita ti può portare quindi non vedo perché ci debbano essere delle persone che si debbano ergere più di altri non lo concepisco e non lo condivido per quanto riguarda la passione beh io sì quella per il calcio è veramente innata è un qualcosa che mi porto dentro ripeto io ho smesso di giocare a 39 anni proprio perché ancora mi piaceva giocare al calcio ancora godevo ad allenarmi anche con ragazzi molto più giovani di me e oggi ho proprio il piacere di vivere questo mondo nonostante sono passati tanti anni quindi sicuramente la passione per il calcio è tanta ma in generale mi piace quello che vivo qualunque hobby faccia qualunque cosa con cui mi che faccio entrare nella mia vita comunque cerco di portare sempre quella passione che ti permette di vivere ripeto sempre quelle emozioni forti che poi sono un po' il sale della vita ecco allora nel frattempo facciamo un attimo riposare il mister io volevo ringraziare tutte le tantissime persone che ci stanno scrivendo da casa sono veramente tante anche perché arrivano un sacco di un sacco di domande ci sta guardando da casa anche Gigi Anaclerio e il presidente Rossiello e c'è una domanda mister da casa che le chiedono diciamoci la verità mister la sua sembra quasi un'ossessione come riuscirà a sfogare tutto questo carico emozionale in caso di vittoria taglia il campo dello stadio se lo fa tu si rifare ci penseremo quando sarà il momento lo troviamo lo troviamo lo troviamo in modo per festeggiare lo troviamo magari avessi questo problema a maggio ah infatti e poi le chiedono se adesso a mente è abbastanza fredda pesano quei tre punti persi con l'agropoli pesano tutti i punti persi pesano a me sinceramente forse perché a livello temporale pesano molto di più quelli di Gladiator sinceramente anche per una serie di situazioni i punti persi con l'agropoli non lo so forse in quel momento della stagione quella doveva andare così quella batosta forse c'è anche servita forse quella io a volte bisogna pensare che qualche evento negativo nella vita possa essere poi un punto di partenza per cose meravigliose e per noi fino adesso è stato così da quel punto la squadra ha fatto 16 risultati utili consecutivi quindi perché non poter pensare che quella batosta sia stata in qualche modo la scossa quella scossa la squadra che aveva iniziato bene le prime due partite ha preso due batoste e da lì ha capito che probabilmente con un certo atteggiamento la squadra poteva essere forte e calando un attimo quell'atteggiamento la squadra poteva essere battibile da chiunque e forse i 16 risultati consecutivi sono frutto anche di quella batosta quindi penso che in un percorso di una stagione ci sta la partita storta ci sta la partita che non va bene ripeto forse oggi come oggi se dovessi tornare indietro se dovessi guardarmi indietro i due punti che proprio mi sono rimasti qui sono proprio quelli di Grattel perché è una partita che stavi dominando in lungo e largo non stavi rischiando niente abbiamo veramente regalato due gol come forse mai ce l'ha successo quest'anno un'altra domanda che arriva da casa poi le lascio ai nostri ospiti le chiedono teme più un calo fisico o un calo mentale fino alla fine della stagione no non temo di uno né l'altro perché i ragazzi si allenano bene e quindi sul calo fisico possiamo picchiare il prof sul calo fisico alla fine posso fare come tanti allenatori che quando le cose non vanno se la prendono con la condizione fisica perfetto no scherzo no non penso mai è premesso che io da giocatore l'ho sempre pensato c'è un forte nesso tra condizione fisica e condizione mentale per me la squadra che mentalmente sta bene di conseguenza ha una condizione fisica ottimale anche perché la condizione mentale ottimale ti porta ad allenarti bene con entusiasmo e quindi questo già solo allenarsi bene con intensità ti porta ad avere una buona condizione fisica però a parte tutto Paolo è un meticoloso e non può che essere così perché altrimenti non potrebbe stare nel mio staff e stiamo facendo un grande lavoro i ragazzi oggi forse si rendono conto quanto anche tra virgolette le le urla di Paolo l'incitamento il grosso carico di lavoro a volte anche con sacrificio che gli è stato richiesto dal prof e gli sta dando dei risultati incredibili quindi il lavoro fisico sicuramente serve a livello mentale è competenza strettamente mia e credo che sarebbe la cosa peggiore cioè vedere una squadra che in questo momento possa avere un calo mentale una squadra che prima è classifica una squadra che si sta giocando qualcosa di così importante una squadra che ha fatto tanto per arrivare a questo punto e poter dire ok abbiamo quel sogno che avevamo all'inizio può diventare realtà è il momento di battere il ferro è il momento di dare probabilmente di cacciare anche quel qualcosa in più se fosse possibile per provare veramente a coronare un sogno Nico vogliamo leggere qualche dato e poi passiamo a qualche foto così vediamo sì rapidamente devo fare io le domande sì sì Pasquale tranquillo non c'è da leggere sei presente non ho niente con te di testa non ci sono mi devo schierare a favore dell'amico grazie grazie ti auguro tante Champions League anche per cui qua non dimentichiamo che il responsabile io ti auguro tante qualificazioni io non dimentichiamo che qua il responsabile dell'ufficio stampa è milanista e quindi chi non è milanista sta un passo indietro comanda il milanista detto questo non ci sono grosse statistiche numeri dati da dire oggi magari mandiamo in sovrimpressione la classifica perché è sempre bella vedere la classifica che io bravo sulla memoria diciamo soprattutto nelle prime diciamo posizioni anche perché so che anche tu la notte non dormi sì ormai dando la colpa al mister mi sto taurinizzando esatto hai visto per cui avevo ragione ci stiamo un po' tutti taurinizzando anche che il mister puntualmente ha le partite quello che vuole quindi ha la sua completa disposizione H24 la classifica qualcuno puoi anche decidere di fare come hai sempre fatto a tuo rischio e pericolo no no tranquillo mister sono venuto fino a Camerino pure quindi non vi mollo non vi mollo la classifica la sappiamo tutti chiaramente io ricordo sempre io ricordo sempre che stiamo da oltre tre mesi al primo posto così ancora qualcuno se lo scorda ma è un dato è un dato statistico così come tanti altri dati statistici vediamo anche il prossimo turno di campionato chiaramente lo presentiamo rapidamente il Bitonto sappiamo che giocherà questa gara esterna sul campo dell'Agropoli testa a coda mister chiaramente da non sottovalutare in quanto appena due settimane fa l'Agropoli è riuscita a fermare sullo 0 a 0 Casalingo il Foggio quindi è una gara da prendere assolutamente con con le giuste attenzioni e le giuste precauzioni sì certo un po' come tutte è normale la classifica può ingannare ai ragazzi ho chiesto innanzitutto di non guardarla e poi ci sono vari aspetti uno l'hai detto te comunque questa è una squadra che è due domeniche solo due domeniche fa ha bloccato il Foggio sullo 0 a 0 in casa propria quindi già questo ci deve alzare un po' le antenne per stare tutti connessi e se a questo ci aggiungiamo che è l'unica squadra che ci ha battuto in casa penso che sia abbastanza per non per vendicare diciamo per non prendere la sottogamba non dobbiamo vendicare niente dobbiamo soprattutto cercare di continuare a fare tre punti ogni domenica perché ci darebbe la certezza di rimanere su quella classifica ecco in linea di massima e quindi in questo momento ci sono ancora le partite sono ancora tante però è vero anche che ogni partita che passa è una e meno quindi l'obiettivo è quello di vincere domenica per rimanere primi questo deve essere l'obiettivo domenicale vincere per poter rimanere primi Pasquale allora mister te l'abbiamo non troppo difficile no 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 vabbè te l'abbiamo detto tante cose io ormai diciamo ci diamo del tu ti do del tu perché tante vabbè vabbè ma non si può dare delle ci diamo sempre del tu adesso in trasmissione ora ne sta approfittando perché domenica mi ha dato un passaggio lo sta facendo pesare stavo inciampando esattamente la persona stavo inciampando in qualcosa ed era la lingua di scivito no no siete esagerati a prescindere da tutto solo io posso dare del tu al mister perché posso dire in giro che conosco palmo palmo la nuca del mister no prima di dare il consenso no a parte scusa mister stavo scherzando a parte tutto diciamo una caratteristica che abbiamo notato ricollegandoci diciamo all'analisi della persona dell'uomo taurino fatta dal buon Mario Romano è quello che comunque con te si può parlare veramente tranquillamente di calcio sia nelle vittorie che sono state molte sia anche nei pochi momenti di difficoltà soprattutto all'inizio quando dopo Fasano e dopo Agropoli un po' qualcuno e non te lo nascondiamo anche noi un po' si storceva come è giusto che sia si storceva un po' il naso poi hai dimostrato con i fatti con il lavoro ci hai fatto un po' ricredere e poi oggettivamente io che ho fatto per tanti anni l'addetto stampa del bitonto ho avuto questo onore trovo difficile trovo una persona con cui un allenatore con il quale confrontarsi e parlare di calcio come appunto noi facciamo con te ci sono episodi Mario lo ricorderà di allenatori che buttavano addosso l'addetto stampa astucci tanti anni fa vabbè comunque andiamo avanti diciamo che con la categoria di giornalisti devo andarci piano devo avere rispetto perché se no il gendarme a casa mi esatto esatto puoi restare abitando tutta la settimana puoi restare abitando tutta la settimana hai costruito hai costruito veramente una grande una grande orchestra questi ragazzi ti stanno dando tanto e tu hai dato tanto loro perché lo vediamo la meticolosità del tuo lavoro io ho la fortuna di assistere soltanto alle rifiniture è incredibile come prepari veramente ogni dettaglio delle partite dalle punizioni a tutte le situazioni di gioco eccetera tutto ciò che è preparabile tu lo prepari e anche i giocatori io ricordo Chicco Patierno a Brindisi te lo riconoscono ti riconoscono questa grandissima preparazione che poi ovviamente si trasferisce facilita un po' il lavoro dei calciatori ecco la domanda che volevo farti la prima domanda che volevo farti era questa tu appunto hai dato tanto ai giocatori quale il giocatore che secondo te è cresciuto di più in questi mesi quello che magari ti dà più soddisfazione ma non perché magari ha ascoltato i tuoi dettami e appunto ha metabolizzato il tuo metodo di lavoro ciò che tu realmente volevi questa è la prima domanda allora poi ce ne ho un altro paio te ne faccio te ne faccio un'altra sola poi al massimo al massimo l'altra te la faccio dopo ti rimproveri qualcosa cioè qual è stato l'errore che hai fatto in questo in questo arco di tempo e qual è stata la cosa che magari più ti ti inorgoglisce per questo prima per queste prime ormai primo campionato sì esatto quei sei mesi di campionato innanzitutto sì io cerco di dare tutto quello quello che ho come bagaglio come come conoscenza ai miei calciatori anche se quello che do io è sempre molto meno di quello che stanno dando loro a me perché sinceramente se oggi stiamo vivendo questa stagione alla fine gli attori principali rimangono i calciatori e qui abbiamo una serie di attori che chi più chi meno chi con più minutaggio chi con meno minutaggio però tutti hanno interpretato il loro ruolo nel modo migliore altrimenti non avremo oggi questa classifica quindi il plauso più grande va sicuramente a loro per quanto riguarda chi mi inorgoglisce di più faccio fatica a individuare un singolo giocatore ma non perché non voglio perché veramente in questa annata ho visto la crescita di un po' di tutto il gruppo forse di qualcuno ci si aspettava già diciamo che il partireno della situazione è un giocatore che già l'anno scorso ha fatto il capocannoniere è una riconferma per lui però chi lo ha conosciuto ve lo siete già gustato lo scorso anno sapete che è un calciatore che in questa categoria ha questo nelle corde quindi spesso quando si parla di crescita si parla soprattutto di alcuni calciatori in cui magari all'inizio si era un po' più scettici e per quanto riguarda questo togliendo quelli che sono rimasti perché secondo me Turitto sta facendo molto bene la prima parte è un po' a sofferto poi man mano è stata una grossa crescita e sta interpretando nel migliore dei modi quel ruolo questo nuovo ruolo che secondo me è molto tagliato per lui però chi mi non orgoglisce Piarulli sicuramente ha avuto un'ulteriore crescita ha avuto un'esplosione incredibile era un ragazzo che devo dire Nicola De Santis già da quando ho firmato qui mi ha sempre parlato dicendo che secondo lui già l'anno scorso aveva visto delle buone qualità e loro avevano fatto giocare poco però aveva giochicchiato e lui era convinto che si potesse puntare sul ragazzo ed effettivamente ha avuto ragione perché il ragazzo poi è migliorato tanto e sta diventando anche proprio un elemento fondamentale per i nostri equilibri Colella me lo aspettavo devo dire la verità Colella era un giocatore che avevamo solo il dubbio che potesse avere dei problemi fisici una volta risolto i problemi fisici era un giocatore che ci dava ampie garanzie Lomasto io lo conoscevo perché aveva giocato con me sapevo delle caratteristiche che aveva sapevo che era un buon giocatore sinceramente penso che un po' tutti non ce lo aspettassimo con questi standard di rendimento onestamente bisogna essere sinceri perché sta avendo anche una certa costanza di rendimento e devo dire che anche lui si allena davvero professionista come tutti perché poi secondo me il segreto di questa squadra è veramente la settimana perché chi ci vede tutti i giorni chi vede l'allenamento tutti i giorni i ragazzi proprio l'altro giorno è venuto Leonardo Rubini a vedere l'allenamento non veniva da un po' ha detto ogni volta che vengo mi sembra che i ragazzi spingano sempre quel tantino in più sull'acceleratore ed è difficile per una squadra che già va tanto forte ma io ripeto poi non trascurere nessuno ripeto il nome di Lomasto non a caso Lomasto mi sa che l'ha inserito dalla partita di Nocera con la Nocerina ha giocato mi sa la prima partita dal primo minuto credo che si fosse fatto male Montrone aveva giocato già a Francavilla la prima partita però diciamo da quel momento in poi non l'hai più tolto sì da quel momento in poi poi sì sinceramente non l'ho più tolto un po' anche perché poi con l'infortunio di Gianni diciamo in quel ruolo era rimasto vabbè potevamo scalare sempre Colella però si è meritato voglio dire ha iniziato a giocare ha fatto bene il ragazzo si è meritato ripeto poi non ci sta di citare i grandi non li cito perché da loro ci si aspettava già i Marsili e Biasono sono giocatori e poi devo dire che Terrevoli è un altro che sinceramente ragazzi sta facendo una grossissima stagione all'inizio con qualche difficoltà in più ma oggi gli facevo notare per dire che domenica ha fatto due grandi assist poi purtroppo non si sono tramutati in gol ma ha fatto due grandi assist lui è un giocatore molto dinamico che c'è sempre probabilmente all'inizio mancava un po' di qualità nell'ultimo non nel cross nell'ultima palla e secondo me nell'ultime domeniche è migliorato molto anche in questo ma poi devo dire poi chi ha giocato meno faccio fatica veramente a non citare tutti perché tutti veramente ci hanno dato una grossa mano io vi cito un giocatore che forse perché l'abbiamo voluto noi è stata un po' una scommessa ma vi assicuro che Merkai per dire è un altro ragazzo che sta crescendo veramente tanto è normale che lui è un po' chiuso da due giocatori molto importanti che hanno pure grande personalità non è facile sostituirli perché giocare a posto di lattanza e Patiano non è semplicissimo però se vi ricordate come ha avuto la possibilità con l'Andrea ha fatto una grossissima prestazione il ragazzo ha fatto una grossissima prestazione quindi mi fa capire che tutto il gruppo Zaccaria uguale ha giocato a Nocera fece una grossissima prestazione devo dire che tutto il gruppo che poi sta crescendo e sta lavorando molto bene ecco perché dico chi è arrivato dopo deve avere grande rispetto per questo gruppo perché anche chi ha giocato meno ha sempre dato il proprio contributo e la nostra forza deve essere quella perché io ho avuto la fortuna di giocare spesso per vincere i campionati e spesso ci sono quelle partite che vengono risolte dal giocatore più impensabile e magari tu vinci quella partita che è determinante grazie a un giocatore che magari fino ad allora ha giocato poco o è stato poco protagonista perché il grande gruppo la grande squadra è questa è quella che riesce a far rendere utile qualunque individuo mister io vorrei un attimino scivolare sulla cronaca in quella ci stavo inciampando vorrei un attimo scivolare sulla cronaca e mi interessa la tua opinione come uomo di campo questa è stata purtroppo la settimana dell'incidente avvenuto in Basilicata con la morte di un tifoso io ti chiedo ritieni da uomo di campo che per combattere il fenomeno deprecabile della violenza negli stadi soprattutto sia arrivato probabilmente il momento di eliminare il concetto della responsabilità oggettiva dei club e cominciare seriamente a perseguire i singoli perché è chiaro che se io faccio inoroso di turno so che le mie tra virgolette imprese nefandezze vengono pagate da un altro probabilmente non sono stimolato a non farle probabilmente sono maggiormente stimolato a farle quindi non ritieni da uomo di campo che probabilmente si debba andare oltre questo concetto o se ritieni invece che sia giusto così innanzitutto prima di chiarirmi questo problema parto da un problema più grosso che è un problema culturale perché al di là se pago o non pago mi chiedo ma cosa può spingere una persona che va a vedere una partita di calcio a simili atteggiamenti cioè questo è il mondo civile cioè questo è il sapersi comportare al di là che si va a vedere una partita di calcio al di là che si fa fare una passeggiata ai giardinetti al di là che si porti un figlio a passeggio cioè mi sembra un'esasperazione generale della società che non va bene cioè sono atti che atti di violenza gratuiti che non hanno senso che non hanno senso quindi questa è la prima preoccupazione che mi sale detto ciò se devo ritornare poi al discorso più tecnico legato alla responsabilità oggettiva la responsabilità oggettiva è un'arma a doppio taglio nel senso che consente spesso al tifoso di tenere sotto scacco la società è un dato di fatto questo lo si sa da nord a sud lo si sa dalla serie A fino alle più basse categorie perché il tifoso può permettere di far prendere una multa alla società semplicemente buttando un petardo semplicemente buttando un fumogeno uno strumento di pressione perfetto con questo non voglio dare solo la colpa ai tifosi ed escludere tutte le società perché questo tipo di rapporto si è creato perché probabilmente poi ci sono state società che hanno a loro volta utilizzato il peso dei tifosi per tornaconti personali ok quindi si è creato è il cane che si morde la coda si è creato un cortocircuito e quindi un giro per cui la società alcune società naturalmente non parliamo di tutte alcune società hanno chiesto l'aiuto ai tifosi è inutile nascondersi anche per creare pressione al giocatore perché quello deve andare via e fargli il torto e fargli il coro e poi di conseguenza e poi di conseguenza si è ritorta contro nel momento in cui il tifoso ha avuto il cortello da parte del manico e ti ha chiesto sempre qualcosa in più in più se andiamo soprattutto nella Serie A mi sembra di poter dire senza poter essere smentito che è il giro di soldi talmente grande che c'è attorno alle grosse squadre ha portato cosa? ha portato spesso il mondo della delinquenza ad avvicinarsi anche al calcio perché è un modo per fare soldi perché gestire il merchandising e avere la possibilità dei biglietti avere accesso facilitato un filo diretto con la società ti permette di avere dei benefit e quindi anche dei guadagni tutto questo circuito in qualche modo va un attimo tagliato in che modo? io sono cresciuto ragazzino quando ero giovane sono stato anche tra virgolette ultras allora il fenomeno ultras va rivisto il fenomeno ultras così com'è strutturato oggi va rivisto il fenomeno ultras io penso che sia nato con un altro spirito cioè quello di incoraggiare di stare vicino alla propria squadra di incarnare i valori di un territorio di una città che è un senso di appartenenza forte e se questo poi deve creare questo tipo di circuito c'è qualcosa che non va allora il tifo è bello vedere le bandiere le sciarpe vedere il coro organizzato e rende allo stadio qualcosa di come dire da quel qualcosa di cromatico e anche di emozionale che rende la partita un'atmosfera fantastica e sarebbe bello poter sempre contare sul tifoso di casa e sul tifoso ospite sarebbe per me sarebbe la cosa sarebbe la perfezione no questo purtroppo però i tifosi si lamentano quando non vengono mandati in trasferta ma gli addetti all'ordine pubblico se la mattina si svegliano e preferiscono non far andare la tifoseria X a vedere la partita Y ci sarà anche un motivo non è che queste persone sono dei matti e dicono no tu oggi non va a vedere la partita se le persone devono tenere le forze dell'ordine anziché a stare per le strade o a fare il semplice servizio d'ordine devono combattere una guerriglia urbana che si crea perché di questo stiamo parlando perché se si arriva alla morte evidentemente si crea un clima di guerriglia se uno non si rende conto che con una macchina va addosso ad un'altra persona e c'è il rischio che possa ammazzarla c'è qualcosa che non va allora ripeto io non sono contrario agli ultras anzi per me l'ultras allo stadio è qualcosa che rende colore che rende che dà entusiasmo che ci permette di vivere questo sport in modo totale però è un fenomeno che va rivisto e gli ultras per primi devono capire che devono avere loro per primi il piacere di venire allo stadio loro per primi il piacere di andare in trasferta senza doversi guardare le spalle senza dover pensare che passare vicino a quella città può essere un pericolo non è questo il calcio non è questo lo sport in genere non è questo che ci può ci può portare a vivere lo sport nel modo migliore possibile ecco quindi io ho questo pensiero gradirei tanto che ogni ogni tifoseria possa tifare sempre e comunque per la propria squadra lo sfotto il coro da sfottocci può stare purché sia non manchevole di rispetto sia per la scuola avversaria che per i tifosi avversari perché si può rimanere tranquillamente in una dialettica come dire di sfotto divertente anzi a volte quando è divertente da anche quel qualcosa in più però senza trascendere senza andare nel violento e nel turpiloquio che secondo me non ha proprio senso nella nostra realtà bisogna pur dire che i nostri invece i nostri ragazzi i nostri ultras sono veramente l'esempio della correttezza sono cresciuti molto nel corso degli anni quest'anno devo dire che oltre alla squadra io penso che i nostri tifosi siano veramente da primi in classifica perché fino adesso non ho mai visto un atteggiamento ostile fino adesso non ho mai visto area di guerriglia a Bitonto sono andati fuori casa non mi sembra di aver mai letto le cronache per scontri quindi mi fa veramente piacere vedere i nostri i nostri ragazzi perché ormai sono mi sento Bitontino adottato si qualcuno ho avuto il piacere di conoscere in realtà subito dopo Grumentum mi hanno obbligato a bere una vita con loro l'ho fatto l'ho fatto anche volentieri sinceramente però devo dire che fino adesso sono stati impeccabili e quindi e meritano il loro spazio diciamolo sempre meritano il loro spazio assolutamente per non dimenticare come si sa di dire allora siamo addirittura ad arrivo io prego nel frattempo i miei amici i nostri amici di preparare una domanda con risposta secca per il mister Nico allora due parole per la partita di domenica un microfono vale l'altro allora come abbiamo già anticipato domenica ultima trasferta campana di questo campionato speriamo che il risultato sia simile a quello della prima trasferta campana quella di Nocera perché poi nel mezzo ci sono stati tre pareggi ultima trasferta campana si va in provincia di Salerno allo stadio Raffaele Guariglie di Agropoli si gioca contro l'Agropoli ore 14 e 30 e ci sarà per domenica per questa gara una grossa novità che dirà tra poco Nicola per quanto riguarda il settore ospiti le indicazioni sono costo del biglietto di 10 euro acquistabile direttamente dalla biglietteria del settore ospiti dello stadio Guariglia di Agropoli allora al volo Vincenzo domanda secca mister per 20 anni fa un outsider vinceva la Liga Spagnola e il suo allenatore per festeggiare l'evento decise di percorrere il cammino di Santiago e Compostela immaginiamo che fra quattro mesi la situazione sia la stessa lei che cosa fa? io l'ho fatto prima mister ho fatto quest'estate lei che cosa fa in quel caso? sì ma tu per espiare colpe tue personali è diversa no sinceramente non lo so non ci ho ancora pensato però sono disposto a fare qualunque cosa pur di arrivare a maggio come tutti speriamo questa frase potrebbe essere usata contro il padre Mario non per perché Mario Romano purtroppo diciamo va bene va bene va bene va bene Mario Sicolo domanda secca sì no ricollegandomi a tutto quello che è stato detto finora no a gli aggettivi che sono stati utilizzati sull'operato no meticoloso puntiglioso rigoroso sia del mister che del professore sicuro che sono tre aggettivi che sono degli eufemismi rispetto al pensiero che magari qualcuno può avere è che sicuramente è un pensiero turpiloquente allora quello che voglio dire mister lei aspetta che la devo tradurre ma lei lei ha dimostrato questo allora le chiedo e tra l'altro traspare ogni volta che la intervistiamo che valore ha per lei la cultura visto che lei prima ha usato l'aggettivo culturale parlando ovviamente di un caso tragico come quello di Rio Nero prego che valore ha per lei la cultura ha un valore fondamentale e non mi voglio ripetere ma anche questo devo dire grazie ai miei genitori anche di questo perché quando io giocavo nel Lecce ed ero anche un ragazzo abbastanza seguito nel settore giovanile nonostante spesso venissi chiamato anche dalle squadre superiori sotto età mio padre più di qualche volta fino alla primavera mi ha impedito di andare a fare gli allenamenti per una settimana nel caso in cui avessi avuto a scuola un voto non dei migliori perché aveva me l'aveva sempre posto come un obbligo a me va bene che tu giochi al calcio ha detto purché tu vada a scuola queste cose ti rimangono nella crescita poi perché ripeto quando avvengono vabbè io poi a scuola sono andato fortunatamente senza mai avere problemi perché mio padre aveva trovato il ricatto giusto ero talmente appassionato di calcio che per non avere problemi col calcio studiavo non ci sono dubbi però queste situazioni ripeto quando si è giovani non si percepiscono bene quando quando inizi a avere qualche capello bianco ad essere più maturo inizi a dare peso a tante piccole situazioni della tua vita quando ti volti indietro devo dire che in questo mio padre è stato una persona eccezionale ho ricordi di mio padre che mi leggeva libri di poesie sul divano insieme ai miei fratelli ho proprio bei ricordi e devo dire che fortunatamente ho cercato di di assorbire molto dai miei genitori e per questo continuo a ringraziarli certo non so se sono arrivato a livello di mio padre da questo punto di vista come uomo parlo di mio padre perché uomo non perché voglio sminuire la mia madre assolutamente in caso qualcuno mi attacca di maschilismo che in questi tempi va di moda e quindi do assolutamente un grandissimo valore ancora di più perché c'è una cattiva abitudine quella di pensare che per giocare che giocare a calcio non sia fondamentale l'intelligenza o la cultura che è una cosa che non è assolutamente vera perché il calcio è uno degli sport dove si ha bisogno di grandi qualità anche intellettive perché giochi in uno spazio così grande con 11 compagni e 11 avversari ci sono tante situazioni che tu devi leggere in un piccolo momento e risolvere c'è un problem solving continuo e non lo dico io c'è uno studio fatto da un'università svedese e hanno fatto dei test su Xavi e su Iniesta che avevano un QI particolarmente sarebbe un qualsiente intellettivo lo dico per chi magari particolarmente elevato particolarmente elevato nella soluzione di alcuni problemi quindi ci fa capire che la vecchia idea che i calciatori siano ignoranti non è più del calcio di oggi che è diventato un calcio dove c'è grande velocità di esecuzione dove ci vuole una grande velocità di scelta e quindi se non si hanno delle capacità non è assolutamente semplice quali sono stati gli argomenti del presidente Rossiello che ha convinto a venire a Bitonto ad abbracciare la causa nero-verde no devo dire che al presidente devo una grande riconoscenza perché io sono onesto innanzitutto il presidente ha preso un allenatore che era stato esonerato questo è un dato incontrovertibile e per una squadra che aveva fatto il quarto posto il quarto posto prendere un allenatore per migliorare quel quarto posto prendere un allenatore che è stato esonerato non è una scelta semplice poi io ho una convinzione che se uno lavora bene che se uno trasmette qualcosa ai giocatori che sono poi la fonte migliore da cui attingere per chiedere un allenatore cioè gli addetti a lavori se devono prendere informazioni su un allenatore ma anche su un giocatore un compagno di squadra spesso chiamano i giocatori stessi e quindi io penso che se alla fine un allenatore lavora bene e cerca di trasferire le proprie idee al di là di quello che poi è normale che dipendiamo dai risultati ma al di là di quello che è il risultato un calciatore io penso che percepisca se l'allenatore lascia o non lascia qualcosa nel suo percorso e io sono stato fortunato perché il direttore e il presidente in primis hanno comunque chiesto informazioni di me ho avuto la fortuna che probabilmente molti ragazzi hanno parlato bene pur essendo l'esperienza di Nardò finita nel peggiore dei modi perché sono andati a leggere secondo me un po' tra le linee sono andati a vedere che anche in una stagione dove sono esonerato fino a dicembre quella squadra era terza in classifica pur non avendo dei valori enormi perché vuol dire che si stava lavorando bene si stava facendo veramente un miracolo sportivo che poi le cose sono andate male ma io mi assumo le mie responsabilità come ho sempre fatto nella vita probabilmente qualcosa ho sbagliato anche io ma probabilmente non sono stato l'unico però sono stato l'unico a pagare ma va bene così nella vita come ho detto per la partita di Agropoli anche quell'evento negativo forse a me è servito evento negativo che ho vissuto malissimo perché l'ho vissuto veramente come un fallimento personale perché sono un orgoglioso e quando le cose non riesco a farle andare bene ho un grande senso di colpa quando non riesco a far andare le cose come nella mia testa e quindi ho vissuto veramente due mesi due o tre mesi veramente complicati della mia vita brutti perché poi ora si può dire mi hanno portato anche a portarmi quel malessere anche in altri ambienti in altri ambiti della mia vita e non è mai semplice perché poi quando devi rapportare con la famiglia con gli amici e non sei sereno e vivi questo malessere lo scarichi spesso anche su persone che non lo meritano e quindi mi ha portato una serie di malesseri da lì ne sono uscito più forte da lì ne sono uscito più maturo da lì ho capito anche che è vero il calcio è la mia passione la mia gioia il calcio per me è tutto lo metto a volte anche troppo davanti a tutto e sto iniziando a capire che va bene spero che possa riempire la mia vita per i prossimi 10-15 anni però ci sono anche tantissime altre cose importanti che non devo assolutamente trascurare per il calcio Pasquale hai 30 secondi 30 secondi proprio Corda Maiuri Feura Foggia Sorrento Cerignola chi è il collega che potrebbe mettersi di traverso la realizzazione di questo sogno e quindi qual è la squadra che temi di più e chi può saperlo ci vorrebbe la sfera magica io in questo momento non ce l'ho lasciata a casa però utilizzo la notte sì non lo so hai citato le tre squadre che in questo momento ci seguono più da vicino no? il Foggia una piazza importante ha alle spalle una città ha una storia ha un blasone ha un allenatore che ha una sua idea e che in questo momento comunque ha portato ad essere lì al ridosso della prima molto vicino a noi quindi sicuramente stanno meritando quello che hanno e ci verranno battaglia secondo me fino alla fine poi c'è il Sorrento che è un po' la sorpresa tra virgolette nel senso quella squadra che come dicevo prima non ha speso il budget delle grosse squadre con un budget un po' più ridotto hanno dato continuità tecnica perché Maiuri era arrivato già a metà dell'anno scorso hanno tenuto un blocco dello scorso anno hanno messo dentro dei giocatori di esperienza qualcuno che Maiuri aveva già avuto quindi conosceva quindi per non ripartire da zero ha messo dentro anche qualcuno che aveva già allenato e questo ha un vantaggio perché conosci già le caratteristiche dei giocatori vivono di entusiasmo hanno una società serissima e questo ha un peso e hanno la testa sgombra quindi secondo me è una squadra che fino alla fine ancora può stare lì e poi perché no loro tanto è normale che qui tutti cercano un poco di defilarsi da riflettori però è un dato di fatto che in questo momento il Sorrento è lì e può giocarsi le sue chance il Cerignola insieme secondo me al Taranto era un po' la grande favorita secondo me Cerignola io all'inizio pensavo che Cerignola Taranto e Casarano fossero le squadre meglio costruite a livello tecnico anche per il numero di calciatori hanno fatto squadre importanti soprattutto Cerignola e Taranto secondo me proprio qualitativamente hanno qualcosina in più hanno molti giocatori molto bravi nell'uno contro uno molti giocatori in grado di risolvere la partita con la giocata singola e quindi squadre complicate da affrontare ad oggi le altre due sono un po' attardate il Cerignola è partito male Confero ha trovato un po' la quadra sta viaggiando a grossi ritmi stanno viaggiando a grossi ritmi anche loro quindi io non so chi più tra le tre possa darci vasilio è normale che dipende molto da quello che sarà il nostro percorso ad oggi sicuramente il Foggia è quella che ci tiene a tiro le altre diciamo ancora abbiamo un gioia almeno di vantaggio sul Foggia no quindi in questo momento la classifica dice Foggia anche se secondo me ripeto per qualità il Cerignola è una squadra di grande qualità mentre per per animo di squadra il Sorrento e anche per la per la testa sgombra il Sorrento è una squadra che fino alla fine può gioversi le 6 carte diciamo che ancora è lunga allora prima di chiudere vuole Nicolangelo vuole fare un'ultima domanda in frattempo invito Michele a venire qui perché facciamo una domanda perché poi chiudiamo con lui non è inutile no anche perché servi da deterrente per per far prolungare esatto prima di fare la domanda volevo salutare Nicola Lavacca purtroppo oggi abbiamo avuto anche grossi problemi di linea ed è già un miracolo davvero che siamo riusciti a trasmettere e andare in onda ringraziamo la squadra è davvero un enorme grazie alla regia curata da Filippo e da Nilo Mingiruli perché alle otto bene un quarto non potevamo andare in onda invece siamo riusciti abbiamo fatto un'impresa un miracolo davvero ci scusiamo con Nicola perché purtroppo per problemi di linea non siamo riusciti a effettuare il collegamento telefonico che avremmo voluto fare con lui visto che oggi è a Roma per impegni di lavoro detto questo faccio una domanda al mister per chiudere mister è chiaro che la tua attenzione è al guariglia di Agropoli ma se ti dicessi Zaccheria Iacovone e Capozza Napoli secondo estratto 2 che ti devo chiedere sono tre trasferte che il Vitondo dovrà fare saranno tre teatri importanti che ci vedranno protagonisti io penso che sono quelle quelle location che da sole sono già suggestive di loro hanno un nome hanno una storia e quindi io penso che per questi ragazzi debba essere un orgoglio poter andare a giocare in queste grosse piazze avendo sempre dalla propria la possibilità di raggiungere questo obiettivo così importante che piano piano ci siamo costruiti quindi quando arriverà il momento penseremo a Zaccheria penseremo a Capozza penseremo allo Iacovone ogni cosa a suo tempo nella vita quindi per adesso quello che ci preme è la partita di domenica ma non perché è una frase fatta perché per ora è fondamentale fare tre punti domenica poi per i prossimi impegni ci attrezzeremo va bene allora mister Roberto Torino grazie tantissime per essere stato qui con noi stasera è una puntata particolare speciale sembrava giusto farlo anche all'interno di un negozio speciale Michele ha detto che non volevi parlare però sappiamo che Michele affacciati grazie a voi per l'ospitalità purtroppo l'unica nota negativa è quella a fianco allora mister proprio per questa nota negativa c'è uno dei nostri sponsor che è DecorCart che a parte un attimo ecco che vuole omaggiare anche DecorCart sono allo stem con delle leone lo vedo in difficoltà Nicola in difficoltà Nicola attenzione sta mollando in salita questi sono due nostri sponsor che fanno questo graditore grazie gentilissima apprezzatissima anche perché so che l'olio ottimo eccezionale ottimo poi la cooperativa di Pasquale Mastrandrea questo è più lecchino della lingua ma qui onestamente chi può parlare di olio nella busta di Pino Lavascio dalla sua DecorCart e poi un'altra cosa un'altra cosa importantissima di questo siamo orgogliosi come Radio W0 e lo diciamo anche al mister io prego Danilo di mettere in onda il cartello in maniera tale che spieghiamo che cosa succederà effettivamente domenica eccolo qui e cioè Radio W0 è orgogliosa di dire che ha acquisito i diritti per la radiocronaca in diretta dalla partita tra Agropoli e Bitonto che andrà in onda il 26 gennaio alle 14.25 circa logicamente seguitele sia la pagina ufficiale di Radio W0 che la pagina ufficiale del Bitonto Calcio perché li troverete tutte le indicazioni per poter seguire la radiocronaca in diretta troverete soprattutto due losqui personaggi incollegati radiofonicamente da quel di Agropoli che Dio a naso direi che non si tratta di Riccardo Cucchi e Francesco Repice a naso così vi dovete accontentare dell'addetto stampa e del vice impectore molto impectore e comunque questo è un che Dio ce la mandi buona se facciamo pena avete tutte diciamo possiamo anche far bene l'importante risultato alla fine che non ci sia Mario Romano no l'importante è questo e questo è un altro siccome Mario Romano viene in trasferta di presti qualcun altro va bene e questo è un altro piccolo traguardo permetteteci di Radio W0 che da quando ho cominciato a seguire il Bitonto Calcio ho fatto tanti passi in avanti e noi di questo siamo con te va bene l'hai detto tu non l'ho detto io va benissimo così mister grazie ancora per essere stato con noi stasera grazie a Michele Sgaramella sullo Sgaramella Store qui a Bitonto che ci ha ospitati grazie logicamente ai ragazzi grazie a Mario Sicolo da Bitonto grazie a Vincenzo Murgolo Radio Norba Mario Romano mi è venuto Mario Romano Data Sport Michele Romano e Pasquale Civitolo e grazie al mio compagno come sempre di avventure Nicolangelo Biscardo Biscardi eh no è l'emozione è l'emozione è l'episcardo è uno noi siamo in due puoi chiudere con una massima di Mario Romano appena nominato vicio in Pettore appena sono andato subito grazie a tutti arrivederci ci vediamo giovedì prossimo questo programma è stato offerto da Trascorriamo un terzo della nostra vita riposando e dormire su materassi troppo datati o di scarsa qualità può portare all'insorgenza di patologie molto fastidiose che condizionano la nostra vita come malumore irritabilità dolore alla schiena mal di testa dolori cervicali o agli arti per recuperare la forma fisica e la voglia di sorridere non esitare chiama ora il numero verde 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno cos'è we don't want to grow all we just want to be all we just want to be Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.